un po' pericoloso che basta che cadi da lì e finito subito la tua missione però vai che ore sono al prossimo punto di salvataggio mi fermo a raga ma sono programmati per parlare così tanto in effetti il loro programma in tilt ma se il capo dice che qui c'è qualcosa non voglio certo contraddirlo fantasmi nella macchina raivis ha chiesto che le sale abbandonate della stazione lunare fosse completamente resumate nonostante i predoni stessi non ne capissero il motivo ok di qua che cosa c'è c'è qualcosa là ok ah era tutto programmato che finisse così ok vediamo un po' che cosa c'è Z riuscirà a decifrarlo per noi non restare indietro voglio tutto sigillato non deve passare nessuno neppure quella feccia Jedi il bersaglio è un via c'è un amico non ti sparati niente male voglio infistare muori tu voglio io muoiono tutti come è stavo a fare la declinazione del verbo allo squagliato stiamo difendendo qualcosa di importante più avanti ah ok di qua non posso fare niente disattiviamo la barriera oh grazie per il follow viva viva la la viva viva la 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 no ah questa non funziona no devo proprio seguire bugia no ma qui già ci sono stato dove so finito sono tornato giù allora io dove devo andare scusami eh sto trovando il punto di salvataggio per salvare la partita dove ci arrivo là scusa eh no 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 calca calacchia la 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 eh si la 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 scusami eh però so stupido pure io fermo là invertiamo e risaliamo viva la 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 allora eh ipoteticamente ipoteticamente ma molto ipoteticamente per nulla ipoteticamente per di qua no per di là già siamo stati per di qua per di qua siamo saliti ecco inizio un attimo me sono perso la prima di salire è qua allora scusami non potete entrare nel laboratorio ah che non dovreste stai bene non possono entrer scusa non lo sappiamo ok di qua niente no devo fare sta strada qua vuoi di eh si ah no ma beccato mentre stavo saltando maledetto un'altra volta guarda guarda come spara un vero droide ah dalle scusami no no non sbagliate combattimi ah no c'era la parite c'era la parite oh per un pilo oh oh non passerà ah si qualunque cosa ci sia più avanti non vogliono lasciarci avvicinare mi pare proprio di no che non ci vogliono far avvicinare mi serve un punto di salvataggio che ore sono? per tre minuti sono ancora dentro no sono saltato dal lato sbagliato ah non glieli para ok oh che barba ok ora dove mi porta acqua ok andiamo ma tanto se conosco un pochettino il gioco tra poco no no ma dai come faccio a calcolare i tempi allora aaaah e dai dai no ero quasi arrivato dai dai che ce la faccio dai che ce la faccio a fa un bagno chiudi chiudi subito chiudi subito chiudi subito chiudi subito chiudi subito chiudi subito proprio non vogliono farci entrare ah oh 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 vabbè ah non basta allora ora si affan bagno ma in tutto questo dove devo andare a di là sì 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 sono arrivate in ritardo le risposte ecco perché se dovessi andare la aspetta devo andare di là proviamo doppio iper salto ok se vado di qua che cosa c'è da lì sul soffitto e se salgo di qua che cosa c'è mi arriva nel ritardo i messaggi c'è il delay se c'è qualche sponsor se mi regalano un computer da streaming più performante tolgo tutto il delay lo metto a zero così i messaggi arrivano quasi istantanei forza fatevi avanti se una volta con mia sorella mi fa prendere un colpo non ci capiamo se ci stiamo leggendo e rispondendo dai su non fate i tirchi poi questi tempi prosperi per tutti quanti come si fa a non regalare qualcosa ma in tutto questo devo andare di qua ok ah ok capito pronto che la forza sei con me e stava quasi andando pure con il mio spirito lasciate qui soli per secoli fino all'arrivo dei credoni sentiamo un po' questo affare è rotto, inutile gli sponsor, gli sponsor, gli sponsor la gente comune deve guardare, gli sponsor devono cacciare giusto? giusto Iole? a questa la porta è chiusa, vedete? e la porta è chiusa all'altro lato uso banco da lavoro, non mi interessa perché tanto è tutto puramente estetico o che cos'è? Cordova vorrà vederlo dispositivo ottenuto, cane recupero misterioso dispositivo dell'alta repubblica ooo ooo ma sai che sta cosa della pistola laser fa cagare devo cambiare ma devo rimettere di nuovo la doppia spada dai è la doppia lama la doppia spada doppia lama o la lama singola addirittura rimetto la lama singola emettitore modificato forse possiamo recuperarlo oh sto per apprendere una nuova abilità aspettate che forse cambia tutto quello che ho appena detto quando fa così ottengo una nuova spada ora c'ho il bastone dalla magia iper eeeh ooo aah c'ho pure le fiammette laterali i laser laterali non le fiamme ah c'è giocato io stile guardia incrociato ottenuto ora cal può usare lo stile guardia incrociato in battaglia questo stile gli permette di effettuare attacchi più lenti e potenti e ottenere più vigore per la difesa bello grazie